La chirurgia maculare è una branca della chirurgia vitaretinica che si occupa della patologia della macula. La macula è la parte centrale della retina, la parte più importante, e noi usiamo per una visita distinta, per leggere o per conoscere un volto. La chirurgia maculare va ad agire proprio su quella zona delicatissima della nostra retina. Quindi in grande nico effettuiamo tutti i tipi di chirurgia maculare con tecnologia minivasiva, quindi parliamo di vitretomie 27 gauge, e con un sistema di visualizzazione tridimensionale, quindi una modalità di operare innovativa molto sicura per il paziente e si avvale nell'utilizzo di uno schermo di grandi dimensioni, tridimensionale. L'operatore non utilizza più il microscopio ottico tradizionale di una volta, ma guarda lo schermo con uno piano 3D, proprio come al cinema. Questo ci permette di operare con una sicurezza aumentata, con una confidenza maggiore, tutto a vantaggio nei nostri pazienti.